Disputate le varie coppe di categoria, iniziano i vari campionati. Quello di Serie C è già iniziato e si è infatti celebrata la prima giornata. Nel secondo turno, rinviate Messina Casertana e Brindisi Catania, queste le altre partite in programma. Sorrento, Audace Cerignola, Crotone Turris, Latina Potenza, Monopoli Monte Rosa Tuscia, Picerno Taranto, Benevento Turris, Francavilla, Foggia Giuliano e Juve Stabia Vellino. Inizia anche il campionato di Serie D, queste le partite in programma, tra le altre l'esordio degli Giai Virtus sul proprio campo contro la Cireale e la regina che ha scelto di chiamarsi la Fenice. Acaragas Licata, Canicattì Siracusa, Castrovillari Sant'Agata, Trapani Ragusa, Locris Sanluca, Real Casalnuovo, Portici, San Cataldese, La Mezzia, Vibonese, Gioiese e Giai Virtus e Cireale Catanzalo, La Fenice. Via anche al campionato di eccellenza con l'esordio della Messana, Messana Enna, Gela Paternò, Imesi Roccaquedolcese, Leonzio Misterbianco, Mazzarrone Ionica, Modica Milazzo, Nebros Leonfortese, Santa Croce, Real Siracusa Belvedere. Ora la promozione, il girone B con la nuova rinascita che all'esordio assoluto proverà a fermare la corazzata Rosmarino. Queste le partite, Gioiosa Nuova Azzurra, Luntina Promende, Aquila Atletico Messina, Mistretta Galati, Rosmarino Nuvarinascita, San Fratello Sant'Angiolese, Valle del Melallascari, il girone C, Ace Galatea Sant'Alessio, Santa Domenica Cicatena, Villa Rosa Caggi, Valdinisi RSC Riposto, Belpasso Real Suttano, Nicosia Real Aci, Ace Sant'Antonio Calatabiano.